ciao amici bentornati o benvenuti su freddy tech io sono freddo nel video di oggi andiamo a parlare di un importantissima news che è uscita proprio ieri ovvero supportare lena che è possibile avviare l'iter per il patentino a2 ovviamente questo è un video che interessa a chi vuole volare in totale legalità con il proprio drone mentre per gli altri vi dico che potete benissimo chiudere qui perché tanto se non avete fatto la 1 a 3 sarete interessati al patentino a2 comunque sono questioni di scelte ognuno fa quello che vi pare detto questo cosa ci permette di fare il patentino a2 ci permette di pilotare tutti i droni senza marcatura di classe fino a un peso massimo di 2 kg però dobbiamo stare a 50 metri dalle persone che non sono sotto il nostro diretto controllo e invece in futuro con i prossimi si spera in uscita droni con marcatura di classe c2 potremmo fare la stessa cosa solo che addirittura potremmo volare a 5 metri di distanza dalle persone però bisogna attivare la qualità di volo a bassa velocità modalità tripod su alcuni droni modalità cine su altri comunque una modalità che limita di molto adesso non ricordo bene proprio i metri al secondo comunque limita di fatto la velocità del drone ok detto questo prima di iniziare andare a vedere che cosa è stato pubblicato sul sito dell'enac vi chiedo come al solito se i miei video vi sono utili di lasciare un bel mi piace iscrivervi al canale e attivare la campanellina andiamo a vedere ok ragazzi eccoci qui sulla pagina ufficiale dell'enac ente nazionale avversione civile qui ci viene detto che per diventare piloti di un us ovvero di un drone della categoria open a2 questo è quello che necessario avere e fare essere in possesso ovviamente del patentino a13 dichiarare in pratica auto dichiarare che abbiamo fatto della pratica con il nostro drone siamo in grado di guidare il drone nella categoria open a3 e poi dobbiamo ovviamente superare il test teorico che dovremmo affrontare di 30 domande o meteorologia e dopo andremo a vedere quando andremo a vedere in un altro video gli argomenti del test il test ovviamente si fa online è possibile accedere tramite la classica tramite il link che ci riporta ai servizi web dell'enac come è stato fatto per la 1 a 3 ovviamente chi l'ha fatto l'unica differenza che per adesso almeno solo per adesso e comunque io spero rimanga così perché altrimenti questo test diventa ridicolo come la 1 a 3 per adesso è possibile farlo solamente in un centro addestramento sotto il controllo di un sorvedente disegnato ovviamente dell'enac quindi voi andate in un centro addestramento c'è qualcuno che vi controlla che non fare cose strane io spero rimanga così almeno questo test possiamo dire che è un po più credibile vediamo le condizioni che dobbiamo rispettare anche il cittadino noi dobbiamo essere italiani e maggiorenni in possesso di speed quindi se non avete speed dovete farlo ma se avete fatto la 1 a 3 lo speed ce l'avete già ovviamente avere l'attestato us a 1 a 3 perfetto e devono essere trascorsi almeno 15 giorni dal conseguimento di questo 1 a 3 quindi voi fate la 1 a 3 se non ce l'avete per poter fare questo a 2 dovete aspettare 15 giorni e poi potete seguire tutto l'iter che adesso andiamo a vedere per fare il test del patentino a 2 come abbiamo detto prima pagamento di 31 euro quindi noi paghiamo poi facciamo questa dichiarazione di addestramento pratico di quello che avevo detto prima ok e queste due fasi le possiamo fare noi a casa dopo che cosa dobbiamo fare dobbiamo in pratica metterci d'accordo con un centro di addestramento autorizzato nelle nostre vicinanze l'esame può essere effettuato dalle 8 alle 19 penso di tutti i giorni lavorativi quindi penso dal lunedì al sabato e comunque nei giorni in cui l'ENAC ha attivato le sessioni infatti se andiamo sotto c'è il calendario ci clicchiamo ci sono dei giorni prestabiliti almeno per adesso ad agosto eccolo qui a settembre io vi consiglio di farlo subito uno perché i posti si riempiranno sicuramente e secondo perché il costo di 31 euro adesso è basso così perché appunto bisogna fare questa cosa quando si farà tutto online sicuramente aumenterà arriverà secondo me a 50 60 euro se non di più e l'esame comunque funziona più o meno come il vecchio 30 domande da completare in un'ora per ogni risposta esatta 2 punti se non rispondete non vi viene dato nessun punto e non vi viene nemmeno tolto per ogni risposta errata vi viene tolto un punto dovete avere un totale di 45 punti per superare l'esame che sarebbe il 75 per cento di risposte esatte il massimo è 60 punti appunto i tentativi vi abbiamo detto li ripetiamo con 31 euro avete diritto a un gettone che loro chiamano così che vi da 3 tentativi se falliti i 3 tentativi quindi venite bocciati tutte e tre le volte vi viene data un'ulteriore possibilità ma altre tre possibilità scusate ma dopo 15 giorni quindi dove se sbagliate per tre volte dopo potete rifare tutto l'iter però dopo 15 giorni quindi dovete rifare ripagare 31 euro rimettervi d'accordo col centro autorizzato e così via dicendo ovviamente come la 1 a 3 il certificato di competenza usa 2 reso disponibile una volta che avete fatto l'esame l'avete superato lo potete scaricare sempre nella vostra dei servizi web dedicata a voi la certificazione a validità 5 anni quindi voi lo fate lo scaricate e comunque a validità 5 anni da quando superate l'esame ok ragazzi adesso dove vado a studiare si c'è il sillabus che l'enac da sempre a disposizione ma come al solito non serve una mazza ve lo dico sinceramente io vi consiglio di andare su drone next srl drone next scusate punto eu che è il sito vi lascio sempre il link descrizione è un portale dove ci sono ovviamente a pagamento perché c'è un gran lavoro dietro io il mio patentino a 1 a 3 l'ho preso tramite loro seguendo tutto il loro sillabus appunto che potete trovare vedete qui vedete il patentino a 1 a 3 hanno messo a disposizione ovviamente hanno creato anche un sillabus loro con dei facsimili domande che trovate inoltre c'è tutta la teoria quella che dovete sapere proprio per superare l'esame eccolo qui costa 29 90 ci sono dei sconti a volte se riesco a farmi dare qualcuno da drone next ve li lascerò qui sotto nei commenti quindi ogni tanto veniteci a dare un'occhiata al video oppure ancora meglio iscrivetevi al gruppo facebook perché lì cosa mai vi pubblico se riesco a farmi dare qualche buono sconto il pubblico coupon nel gruppo facebook redd tech gruppo ve lo lascio anche questo in descrizione e niente comunque guardate i manuali sono fatti abbastanza bene io ovviamente vi posso far vedere quello che vedete qui sul sito comunque vedete c'è tutta la teoria c'è l'indice ci sono dei facsimili delle domande che andate che potete trovare all'interno dell'esame e niente quindi è molto utile è come diciamo che per chi ha studiato per chi deve fare chi ha fatto comunque tutti quelli che hanno fatto l'esame della patente più o meno una cosa del genere della teoria prima e poi c'è l'eserciziario alla fine quindi è un'ottima cosa vi invito come al solito a lasciare un bel like se il video vi è piaciuto se vi è stato utile iscrivetevi al canale per supportarmi stiamo arrivando quasi a 5000 iscritti è una gran cosa farò uno speciale ovviamente vi mostrerò il mio ufficio dove creo quello che faccio vi parlerò un po di me perché è giusto che un po voi sappiate quello che combino detto questo ci vediamo nel prossimo video sempre qui su fredd ciao ragazzi ciao